La Serie A non è un'utopia, lo titolo in mezza Roma chiedevano uno stadio da record per il debutto della Salernitana in prima divisione. Di tifosi Granata sono andati ben oltre i 10.000 invocati, poco meno di 14.000 spettatori, ma ce n'erano molti di più. Sud e Saurite, tribuna quasi piena, un'immagine incredibile di passione ed entusiasmo. La Recchi, il principe degli impianti, roba da fare invidia a tante società di Serie A. Non a caso, nel fine settimana, Chievo Napoli, Udinese Parma, Atalanta Torino e Sassuolo Livorno hanno fatto registrare in Serie A un'affluenza inferiore a quella di Salerno. Un record, un record anche per la Lega Pro. Basta guardare i dati pubblicati oggi sui quotidiani. Per Vicenza Pavia e Catanzaro Viareggio, due delle partite più seguite del torneo di prima divisione, c'erano poco più di 4.000 spettatori. L'entusiasmo, insomma, è tornato a Salerno, è tornato alla Recchi ed ora non resta che sperare nel traenone della squadra di Sanderra. La società ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti, probabilmente a partire dalla prossima settimana oppure da quella che precederà la successiva gara a Casalinga dei Granata. Ci saranno ulteriori agevolazioni per i tifosi come ingressi dedicati per gli abbonati, ma anche più botteghini aperti per rendere più snella la prevenzione dagli anni singoli di ogni incontro, evitando così lunghe code e poi si valuterà l'apertura degli istinti, ma solo se l'affluenza dovesse essere costantemente alta anche nelle prossime settimane. Abbiamo ancora una volta puntato sulle qualità morali di questa città, nel senso che hanno assunto un impegno, che se avessimo allestito una squadra competitiva avrebbero risposto in modo numeroso alla presenza dello stadio. Ciò ad oggi è accaduto nella misura in cui avevamo previsto. Se questo trend prosegue sicuramente noi faremo qualcosina, qualcos'altro ulteriormente per rinforzare questa squadra, ma soprattutto daremo la possibilità alla squadra di non avere alibi, anzi di avere la responsabilità di un comportamento nel campo in cui debbono esprimersi al 200%, non al 100%. Grazie. 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 Grazie.